Movida Locca Television Lo meglio di questi anni sia passato di già Ogni tanto tremo di paura ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei Che ogni tanto cado e non ci sei Che ogni tanto cado e non ci sei Ora ti voglio più che mai Ora ti voglio qui per sempre Se solo tu mi sfiorerai Ci stringeremo eternamente Ce la faremo se tu vorrai Non sbaglieremo mai Insieme cambieremo questa nostra realtà Il tuo amore è come un'ombra che non mi lascia mai E come dici tu qui nell'oscurità La luce si confonde con la felicità Ti voglio qui più che mai Per sempre tu mi stringerai Per sempre tu mi stringerai Un tempo fa speravo in una storia con te Ed ora è solo un'assurdità Se non ci pensi tu Eclissi del cuore sarà Ogni tanto so che non sarai mai quel uomo che davvero io vorrei Ogni tanto so che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te Ogni tanto so che non c'è niente di meglio E niente che per te non farei Che ogni tanto cado e non ci sei Che ogni tanto cado e non ci sei Ora ti voglio più che mai Ora ti voglio qui per sempre Se solo tu mi sfiorerai Ci stringeremo eternamente Ce la faremo se tu vorrai Non sbaglieremo mai Insieme cambieremo questa nostra realtà Il tuo amore è come un'ombra che non mi lascia mai E come dici tu qui nell'oscurità La luce si confonde con la felicità Ti voglio qui più che mai Per sempre tu mi stringerai Tempo fa speravo in una storia con te Ed ora è solo un'assurdità E se tanto non ci sei Eclissi del cuore sarà Eclissi del cuore sarà Eclissi del cuore sarà Movida Locca Television La differenza tra me e te Non l'ho capita fino in fondo veramente bene E te Uno dei due sa farsi male L'altro meno però E e te E Quasi una negazione E Io mi perdo nei dettagli e nei disordini Tu no E te è molto passato E il mio passato Ma tu no E e te Mg Jowels Mi trovo in compagnia con una splendida commessa Non che stasera veste i pani di Hostess Il tuo nome? Alessia E beh è anche scritto qui Alessia insomma Muzzico Gioielli Questa grande gioielleria Mg poi sarebbe Mino e Gennaro Gioielli Che si è aperta proprio qui a Casoria Ma parliamo un po' ai nostri telespettatori I vostri articoli Voi effettivamente cosa trattate? Allora noi trattiamo Nardelli Argento Yes Gioielli Saki Muzzico Ottaviani Denis Lisi E Foco Capri E beh Questo è per quanto riguarda il settore gioielleria Ma so che avete anche una vasta gamma di orologi Vero? Sì Ops Tecno Marine Tab Tab Ma guarda C'è una linea di orologi Che secondo me è veramente meravigliosa È la Light Time Quella là che secondo me Nelle più grandi gioiellerie non può mancare E poi ancora? Mallorca Gioielli E Mastro Buono Alessia tu sei preparatissima Complimenti E poi dovete sapere che Muzzico Gioielli È nel campo dell'oro Pensate e non solo Da più di 15 anni E quindi è una cosa che vi fa onore Certamente Siamo anche al Tari Diciamo Siamo anche al Tari I più grandi sono lì Certo Beh noi vi aspettiamo qui Dico noi perché parte integrante Emo Vida Loga Television Di questo meraviglioso gruppo A Via Benedetto Croce 65 Casoria Arpino Nei pressi dei Carabinieri di Casoria Arpino Quella zona lì È un consiglio mio Un consiglio di Alessia Vi aspettiamo no? Vi aspettiamo Poi guardate Alessia come è bello Fai un occhiolino MG Jowels Nuova apertura Questo nuovo punto video La gioielleria La testimonial Questa sera è proprio Virginia Saldamarco Benvenuta Buonasera Questa sera Ti vedo luccicante Tutta luccicosa Che cosa indossi? Indosso Gioeli Majorica Gioeli Majorica Che per l'occasione Hanno sponsorizzato Questa meravigliosa inaugurazione Un'emozione È stata vissuta stasera Almeno Da te che calchi Le più grandi passerelle Assolutamente sì Infatti stasera Mi sento molto più bella Perché indossi Majorica? Assolutamente sì La prima donna dell'oro È il caso di dire La signora Muzzi Con la mamma Dei tre campioni Signora benvenuta Grazie a voi Per averci invitati In questo meraviglioso Grande evento Un evento veramente Di una rilevanza Importantissima Come si sente Essere mamma Di tre gioielli In questo caso Del genere In quanto voi Sapendo la storia Partiti da sotto zero Da soli Senza Senza l'aiuto di nessuno E quindi È ancora più Inorgoglisce Questo fatto Vi facciano solo Ai tre figli Vai Vi auguro Ogni felicità Del mondo E beh Girando un po' Qui nella geleria Finalmente Sono riuscito Ad acchiappare Tutti e tre I Muzzico In persona È il tuo nome? Jenny Maurizio Ragazzi Innanzitutto grazie Per avermi invitato qui A questo meraviglioso evento Ma Maurizio Mi rivolgo un po' A te Voi che siete leader Nel settore della geleria Da più di 15 anni E siete disposti Un po' tra Napoli Caserta e Roma Come nasce l'idea Addirittura di creare Un punto vendita Al dettaglio? Quasi una sera Tra di noi Chiacciarando Abbiamo deciso Di aprire Questo primo punto vendita Qui a Casoria Che sarà il primo Di una lunga serie Quindi pensi Che sia E possa diventare Una vera e propria Linea di franchise Speriamo di sì Speriamo no Perché voglio dire Ebbene Come si dice Chi parte bene Continua bene Sicuramente E allora Noi vi aspettiamo qui Via Benedetto Croce 65 Casoria Località Arpino Siamo proprio Di fronte La caserma Della polizia Municipale Mino Allora È un consiglio De Muzio Di Mario P Di Movida Loca Television E ricordate È un consiglio Di Movida Loca Television Auguri a tutti Mia vita Mi fa perdere il sonno Sempre Mi fa capire Che è evidente La differenza Tra me e te Movida Loca Television